Monte San Giacomo, oggi incontro su agricoltura e territorio con gli studenti dell'Istituto Agrario. Era un corso di formazione promosso dal centro-sud di Palazzo Marone. Teggiano, ieri sera incontro per presentare il progetto ospedale diffuso nelle stazioni ferroviarie abbandonate. Presente il dottoreppe Argentino Mileto, ideatore del progetto. Procigno, Atena Lucana, domenica 1 maggio grande festa per il Montepruno Day e per festeggiare gli ottimi risultati conseguiti nel 2015 dalla banca Montepruno. Teggiano, Cono Delia partecipa ad Affari Tuoi e vince 253 mila euro, lascia un ottimo ricordo e un grande insegnamento. Polla, sabato l'ultima rappresentazione della rassegna Teatro del Sorriso. Buongiorno e bentrovati al telegiornale di Uno TV. Apriamo con Monte San Giacomo, mattinata intensa per gli studenti dell'Istituto Agrario di Sala Consilina e per i giovani del territorio che in un incontro formativo e informativo promosso dal centro-sud di Palazzo Marone hanno avuto modo di conoscere e approfondire le tematiche relative al mondo dell'agricoltura inserita nello sviluppo del territorio. Il tema dell'incontro agricoltura e territorio, appunto, è stato finalizzato soprattutto alla conoscenza delle diverse opportunità lavorative offerte dal settore agricolo che, se ben sfruttate, possono anche garantire un futuro sviluppo del territorio. Opportunità che sono state elencate nel corso della seconda parte del convegno, quando ad interloquire con i presenti in sala, sono state le docenti dell'Università di Salerno che hanno esposto nel dettaglio il nuovo corso di Agraria attivato presso l'Università di Salerno e che consente un'alta formazione in un settore che dal punto di vista lavorativo risulta ancora in un certo senso vergine, a differenza di tante altre facoltà e tanti altri corsi di studio che invece aprono a settori lavorativi ormai saturi e con forte concorrenza. Ed è stato proprio questo lo scopo essenziale dell'incontro di questa mattina a cui sono stati invitati a partecipare i ragazzi dell'Istituto Agrario di Sala Consilina, cioè offrire loro informazioni utili per scegliere al meglio il loro futuro facendo comprendere le diverse opportunità del mondo dell'agricoltura. In merito alla finalità dell'iniziativa di oggi e dello scopo che il Centro Studi si prefigge nell'ambito della propria attività abbiamo ascoltato i protagonisti e gli organizzatori e anche la professoressa Rita Patrizia Aquino, direttore del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno. L'attività del Centro Studi, se vogliamo, nasce anche con questo obiettivo preciso, cioè quello di dare formazione, dare cultura, dare anche momenti di grande attività che possono essere utili al territorio e quindi anche speranza. Noi riteniamo che ci siano oggi le condizioni nel nostro territorio per poter dare questa spinta e quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo attraverso il Centro Studi Palazzo Marone cerchiamo di dare questo contributo. Oggi in particolare abbiamo questo importante appuntamento, si parla di agricoltura, si parla di territorio, ma lo facciamo con l'Università e con la presentazione di questa nuova facoltà di Agraria all'Università di Salerno. Quindi credo che veramente questo possa aiutare molto soprattutto il nostro territorio, ma in particolar modo i giovani, per far sì che loro possano riavvicinarsi alle attività agricole e fare in modo che si sentano pure orgogliose di questa attività. Concludiamo prima della pausa estiva i lavori del Centro Studi con questo grosso convegno dal tema agricoltura e territorio, in realtà per un'occasione particolare che è quella della presentazione del neo istituito corso di laurea in Agraria presso la Facoltà all'Università degli Studi di Salerno. Quindi il Dipartimento di Farmacia e l'Università degli Studi di Salerno hanno istituito questo nuovo corso di laurea in Agraria. A nostro parere è una cosa molto importante. Stamattina dunque abbiamo ospite la responsabile, la preside della nuova facoltà e alcuni docenti che illustreranno ai ragazzi dell'Agrario il piano dell'offerta formativa. Naturalmente questa sarà anche l'occasione per fare una discussione che vada anche oltre questo, come dicevi tu, per discutere appunto di agricoltura e di territorio perché l'agricoltura è uno dei settori strategici per il Vallo di Diano ma soprattutto in vista delle prossime sfide, dei prossimi appuntamenti pensiamo che sia uno di quei settori su cui puntare fortemente l'attenzione. Beh, innanzitutto devo ancora una volta ringraziare l'amministrazione comunale di Monte Sanciacomo e il Centro Maroni per avermi voluto alla presidenza di questo prestigioso centro. E' solo l'inizio di un percorso formativo, è solo l'inizio di un percorso che intende promuovere quelle che sono le peculiarità del nostro territorio e ci siamo resi conto e anche perché questo centro ha la fortuna di avere con sé la prestigiosa presenza del professore Pindo che uno degli aspetti più importanti di tener conto è proprio l'agricoltura ed ecco qui il tema. Parlare stamattina di agricoltura e territorio alla presenza di prestigiosi regolatori sicuramente ma anche dei numerosi allievi che poi sono le persone che saranno la nuova generazione di questo territorio che è a vocazione agricola beh, è importantissimo, veramente è un convegno che sta andando in onda in questo momento veramente con degli ottimi risultati, la presenza è nutrita e ci stiamo rendendo conto che ancora una volta la nostra banca ha colpito nel segno ha capito che è importante essere presente in alcune attività produttive attività produttive che non possono, come dicevo, prescindere dall'agricoltura ed ecco qui l'iniziativa di portare avanti una facoltà o meglio una sezione della facoltà degli studi dell'Università di Salerno proprio a Monte San Giacomo, proprio in questo palazzo proprio attraverso la partecipazione del centro studio ne siamo orgogliosi, sono orgoglioso come Presidente ma sono orgoglioso come banca perché credo che effettivamente stiamo buttando un seme, un seme che sicuramente germoglierà e sicuramente porterà degli ottimi risultati che questo nuovo corso di studio proposto dall'Università di Salerno è nato proprio da un'analisi delle esigenze del nostro territorio quindi il parco, le aree protette, i bacini idrografici non hanno ancora delle professionalità specificamente dedicate che siano in grado di gestire e soprattutto di valorizzare queste che sono le risorse del nostro territorio quindi proponiamo agli studenti che si iscrivono all'Università un percorso triennale in cui impareranno a conoscere certamente le piante la coltivazione e questi aspetti tipici dell'agronomia ma contemporaneamente impareranno a gestire da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista dello sviluppo tecnologico le aree protette e quindi in particolare il nostro parco nazionale del Cilente Vallo di Diano in cui tutti ci identifichiamo noi della Campania e saranno i primi nella nostra regione Campania ad avere proprio questa formazione specifica per le aree protette Tra i relatori al convegno di questa mattina a Palazzo Marone c'era anche il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino che ha approfittato dell'occasione per presentare alcuni progetti che intende realizzare come per esempio il marchio d'aria a sostegno delle produzioni locali Io ho sempre detto che oggi se vogliamo fare un salto di qualità e se veramente vogliamo incidere e valorizzare le nostre risorse soprattutto agroalimentari, soprattutto la dieta mediterranea dobbiamo riprendere il concetto di scientificità noi dobbiamo dare difficità alle cose che facciamo e alle cose che ci sono sul nostro territorio e mi sembra che siamo sulla stata giusta perché avere la facoltà di agraria all'Università di Salerno con la quale già abbiamo messo in campo con il lettore Tomasetti una grandissima sinergia proprio con il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e degli Alburni su una serie di progettualità proprio di carattere scientifici oltre che chiaramente culturali beh io penso che la facoltà di agraria e sicuramente oggi rappresenterà un punto di riferimento importante per la valorizzazione di tutto l'agroalimentare che c'è nei nostri territori ma soprattutto diamo più occasione ai nostri giovani in questo modo creiamo le condizioni per dare delle opportunità ai nostri giovani utilizzando e valorizzando le risorse che ci sono nel nostro territorio e la dieta mediterranea e soprattutto l'agroalimentare ovviamente che qui è una grande risorsa a mio avviso poco, troppo poco utilizzata oggi può rappresentare un'occasione di sviluppo vero un'occasione di crescita vera e un'occasione per i tanti giovani ovviamente a questo dobbiamo dare un carattere anche scientifico perché è lì che facciamo il grande salto di qualità stiamo lavorando ad un marchio del parco che non è il marchio soltanto di qualità ma deve essere un marchio che deve definire la territorialità perché la nostra ricchezza è proprio il territorio è ciò che noi produciamo sui nostri territori a questo è ovvio noi dobbiamo dare un marchio perché quel marchio determina non solo la valorizzazione di quell'attività ma ne determina anche una maggiore possibilità e una maggiore occasione che possiamo dare quindi il marchio d'aria del Parco Nazionale del Cilento Valorano degli Alburni è uno dei punti programmatici fondamentali, essenziali che dobbiamo portare avanti e che dobbiamo realizzare creare oggi la rete del gusto della dieta mediterranea è un'idea importante perché noi gli agriturismi ma tutte le attività che oggi fanno ristorazione devono capire che sulle tavole di questo territorio devono arrivare i prodotti del nostro territorio cioè io non posso più accettare e vedere attività di ristorazione e la presenza di oli che vengono da altre regioni lavoreremo a fare la rete del gusto della dieta mediterranea perché gli agriturismi, chi viene da fuori ma anche chi vive il territorio deve avere la possibilità di conoscere anche la vera dieta mediterranea sulle nostre tavole perché uno dei motivi importanti di turismo e di attrazione è quello enogastronomico e poi facciamo un altro ruolo importante che è affidato a mio avviso al parco che è quello della promozione perché noi non basta parlare di dieta mediterranea non basta parlare delle medagliette che abbiamo dall'UNESCO per la dieta mediterranea ma è una possibilità per chi viene da turista a conoscere sul nostro territorio la dieta mediterranea l'intervista integrale a Tommaso Pellegrino andrà in onda subito dopo il nostro telegiornale e rimaniamo in tema parco questa sera alle 16 a Vallo della Lucania si terrà una nuova riunione dei sindaci del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per l'elezione del presidente della comunità parco una figura che manca da molti anni, da sei anni da quando è morto Angelo Vassallo che è stato l'ultimo presidente del parco tra i più probabili successori di Angelo Vassallo c'è Salvatore Iannuzzi sindaco del piccolo comune degli Alburni, Valle dell'Angelo questa sera dovrebbero anche essere scelti i componenti del direttivo tra cui sembra quasi certa l'entrata del sindaco di Morigerati, Cono Delia così come il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri e il sindaco di Omignano, Emanuele Malatesta il candidato a sindaco del comune di Battipaglia invece Antonio Inverso dell'Udc sembra il più accreditato per assumere la vicepresidenza dell'ente parco e spostiamoci a Teggiano ieri sera nella splendida location del castello Macchiaroli è stato illustrato il progetto ospedale diffuso ideato dal dottor Eppe Argentino Mileto e finalizzato a ridar vita alle stazioni ormai da tempo inutilizzate e abbandonate presenti sulla tratta ferrata Siciniano-Lago Negro ieri sera presso il castello Macchiaroli di Teggiano ospiti di Gisella Macchiaroli il dottor Eppe Argentino Mileto e l'ingegner Mario Ferrandino, funzionario di Rete Ferrovie Italiane che hanno tenuto un convegno nella sala Stefano Macchiaroli per spiegare il progetto ospedale diffuso nelle stazioni ferroviarie abbandonate da tempo ad organizzare l'incontro e a permettere quindi al dottor Mileto di presentare il suo progetto Giuseppe Verga membro del Comitato per la riattivazione della tratta ferrata Siciniano-Lago Negro che ha anche intervenuto nel corso dell'incontro per sottolineare come il progetto non vada in contrasto con la battaglia del Comitato finalizzata al ripristino della mobilità su ferro nel Vallo di Diano un progetto che non è utopico visto anche il recente riconoscimento ottenuto dal governo dalla regione Campania del Vallo di Diano come area pilota per la strategia delle aree interne un'opportunità che se ben sfruttata secondo Giuseppe Verga potrebbe consentire anche la riapertura della tratta ferrata se gli amministratori chiamati a realizzare e proporre progetti da finanziare inseriscono la mobilità su ferro e quindi ripristino della ferrovia nel documento finale una concreta possibilità che non andrebbe comunque in contrasto con la realizzazione di un ospedale diffuso che consiste nella creazione di reparti diversi con diverse specificità nelle varie stazioni abbandonate fornendo così servizi sanitari che non possono offrire gli ospedali come la riabilitazione o i servizi e l'assistenza tipici degli ospedali di comunità per realizzare questo progetto Rete Ferrovie Italiane ha concesso il comodato d'uso delle stesse all'associazione che andrà a costituirsi e di cui è già pronto lo statuto l'associazione che gestirà e realizzerà gli speciali ospedali nelle stazioni sarà composta da associazioni antipubblici e privati e quanti credono e vogliono investire nel progetto tutti invitati a partecipare all'incontro di ieri sera nel quale è stata spiegata l'idea progettuale anche se a partecipare sono stati in pochi oltre al vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e alla titolare del castello Macchiaroli Gisella Macchiaroli erano presenti alcune associazioni come l'associazione La Ferrovia di Montesano che si è già dichiarata interessata al progetto il commissario prefettizio di Tegiano Vincenzo Amendola Antonio Mastrandrea responsabile rappresentante della Banca Montepruno ed altre associazioni pochi invece i comuni e i rappresentanti di enti pubblici partecipanti per conoscere nel dettaglio il progetto nel corso dell'appuntamento si è comunque parlato delle stazioni in generale non soltanto di un possibile utilizzo come ospedale diffuso il funzionario di Rete Ferrovie Italiane Mario Ferrandino infatti ha sottolineato che essendo al momento difficile la riattivazione della tratta ferrata che richiede un investimento di circa 170 milioni di euro da parte della regione si è dichiarato comunque disponibile per qualsiasi proposta utile ad un miglioramento e ad una riqualificazione delle stazioni stesse con Rete Ferrovie Italiane che è pronta a concedere i luoghi incomodato d'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta e presenti progetti di interesse collettivo e ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri sera a Castello Macchiaroli in occasione della presentazione del progetto ospedale diffuso Sin dal 2013 con la collaborazione di alcune ONLUS e amministrazioni comunali già avevamo fatto e inoltrato insomma delle richieste di incomodato alle ferrovie purtroppo non sono stati concessi ancora questi incomodati perché nel tempo sono cambiati i vertici dell'EFS e quindi i tempi burocratici sono molto lunghi ben venga questo progetto insomma dell'ospedale diffuso in quanto è un'opportunità per il territorio senz'altro avremo delle stazioni nuove stazioni che comunque in caso di ripristino non verrebbero riattivate in quanto la normativa attuale prevedono delle semplici pensiline c'è anche una forte intenzione da parte della regione Basilicata nel ripristino in quanto abbiamo anche un supporto molto forte da parte della regione Basilicata che l'anno scorso ha deliberato il ripristino nell'intesa quadro con il governo stiamo aspettando insomma questo passo anche dalla regione Basilicata dalla regione Campania un passo che a quanto pare non viene però aspichiamo che venga in tempi celeri abbiamo avuto occasione di parlare anche con il vice ministro Nencini alla presenza dell'onorevole Maraio c'è stata la massima disponibilità ricordiamo che l'onorevole Ricchiuti parlava di un ripristino ad uso turistico della tratta quindi insomma siamo in attesa di qualcosa da parte della regione Campania immobili fortissimamente compromessi degradati abbandonati e nell'anno del giubileo straordinario della misericordia perché non pensare ad una grande città tutto il Vallo di Diano e Tanagro che possa in qualche modo dare spazio anche all'accoglienza ma non soltanto all'accoglienza parafrasando appunto le parole di questo Papa ma penso delle strutture che possano in qualche modo regalare anche a questi luoghi bellissimi un turismo stanziale non transitorio quindi immagino anche a strutture piccolissime ma di grande eccellenza e di supporto all'ospedale Curto di Polla che già di per sé mi dicono una grande eccellenza io non sono di qui noi abbiamo immaginato che ogni stazione avrà un piccolissimo reparto all'inizio saranno dei centri di riabilitazione e ripeto di grande eccellenza e poi sono quindi diffuso perché ogni paese ha la sua stazione e naturalmente questa è la differenza rispetto all'ospedale e poi specifico che non è un surrogato di un ospedale che già c'è semmai un supporto Centro di Eccellenza 2016 è questo il riconoscimento ottenuto dall'azienda universitaria ospedaliera senese di chirurgia bariatrica diretta dal valdianese Giuseppe Vuolo Ancora il valo di Diano è protagonista di importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale la SICOB la società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche ha riconosciuto il centro di chirurgia bariatrica dell'azienda ospedaliera universitaria senese Centro di Eccellenza 2016 un importante riconoscimento per l'unità diretta dal dottor Giuseppe Vuolo valdianese doc di Montesano sulla Marcellana che lo scorso anno ha eseguito 135 procedure e ha visto aumentare le richieste di trattamento si tratta di un riconoscimento importante dichiarato vuolo che si ottiene in base a specifiche caratteristiche tra cui eseguire criteri di selezione dei pazienti avere ogni anno un volume di attività di almeno 100 procedure chirurgiche con una casistica interamente inserita nel registro nazionale SICOB avere un follow up di pazienti superiori al 50% e disporre di una terapia intensiva il risultato conseguito a concluso vuole frutto della stretta collaborazione multidisciplinare da tanti professionisti dell'ottimo lavoro svolto negli ambulatori di controllo postoperatori e del costante impegno profuso nel lavoro e nell'aggiornamento continuo delle tecniche utilizzate la chirurgia bariatrica cura i pazienti affetti da obesità patologica che possono essere trattati con procedure restrittive malassorbitive o miste con procedure chirurgiche che avvengono con tecniche mini invasive i risultati della chirurgia bariatrica sono eccellenti con perdita in media del 60-75% del peso in eccesso in circa due mesi la finalità della terapia chirurgica non è riferibile al solo caso ponderale ma anche alla guarigione o comunque al netto miglioramento clinico delle patologie associate con la sindrome metabolica in particolare della diabete di tipo 2 ancora una volta la banca Montepruno è chiamata a festeggiare gli ottimi risultati conseguiti anche il 2015 si è rivelato un anno record per l'istituto di credito diretto da Michele Albanese ha registrato una decisa e considerevole crescita in termini assoluti ma anche sui depositi della clientela i prestiti erogati così come sono registrati dati nettamente inferiori alla media in riferimento al rapporto tra sofferenze nette e impieghi inoltre nello scorso anno la banca è stata inserita da Milano Finanza al secondo posto come banca creatrice di valore la grande festa in programma è per il primo maggio inizierà la mattina con l'assemblea dei soci a Roscigno e poi proseguirà in serata all'Action Palace di questa intensa giornata ne abbiamo parlato con Antonio Massandrea responsabile dell'area comunicazione della banca Montepruno oggi è l'evento della nostra banca che ogni anno ci consente di condividere perché poi è quello l'argomento più importante che ci piace fare condividere quelli che sono i risultati di un esercizio molto molto importante condividerli con il territorio condividerli con i soci con i clienti con i tanti amici della nostra banca e questa è la nostra strategia e questo è il nostro modo di vivere i successi e soprattutto di condividerli con tutti lo faremo il primo maggio è una giornata come sempre molto molto ricca di appuntamenti un appuntamento che comunque cercherà di mettere in luce quello che è stato la capacità di un'azienda di crescere di crescere in un territorio importante e di farlo come sempre a cifre importantissime partirà proprio dalla mattina nel nostro luogo storico per eccellenza a Roscigno dove è nata la nostra banca con la nostra consuetà assemblea dei soci dove verrà portato all'approvazione il più importante bilancio della storia della banca Montepruno parliamo ogni anno di record ma è la realtà è la realtà di un'azienda che sta crescendo in maniera molto molto intensa quest'anno abbiamo raggiunto quello che è l'utile e più importante della nostra storia pare a 5 milioni di euro quindi un risultato molto molto ingente che si associa ad altri elementi molto importanti che sono degni di nota alla crescente fiducia della clientela che deposita presso il nostro istituto oltre più di 56 milioni di euro raggiungendo una cifra superiore ai 404 milioni di euro impieghi quindi finanziamenti in continua crescita sul territorio di competenza quasi 20 milioni di crescita per un valore complessivo che oramai si avvicina ai 250 milioni il tutto diciamo si unisce ad una un'azienda che diventa sempre più solida grazie all'incremento di un patrimonio che si avvicina quindi ai 40 milioni di euro sono dei numeri importanti importanti da dire soprattutto in un momento molto importante per le banche soprattutto perché testimoniano come un'azienda cresce producendo ricchezze e valore ma lo cresce con dei valori importanti dietro che sono quello della fiducia che sono quello della solidità sono quello della vicinanza al territorio questo è un altro dato che conferma quello che è una strategia quello che è un percorso del nostro consiglio di amministrazione quindi diciamo qui va evidenziata tutta la soddisfazione ma soprattutto tutto il grande lavoro svolto dal consiglio di amministrazione prestito dalla dottoressa Miscia nonché della direzione del direttore generale Michele Albanese il premio conferito come creatore di valori è la sintesi di tutto ciò di tutto quello che abbiamo fatto in un anno ed è importante che a farlo è un soggetto terzo come Milano Finanza che rappresenta comunque un'istituzione importantissima dal punto di vista sia finanziario che della comunicazione non è facile non è facile sicuramente perché siamo una piccola realtà se guardiamo l'intero sistema però come sempre diciamo accoppiando i valori ai risultati economici siamo riusciti a creare davvero una grande realtà Bentornati in studio ci sono importanti novità da parte dell'Agenzia delle Entrate dalla dichiarazione dei redditi 2016 è possibile detrarre le spese sostenute per la mensa scolastica dei figli nel 2015 e sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Altanagro è già possibile scaricare l'attestazione relativa ai pagamenti effettuati con la circolare numero 3E del 2 marzo scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su quali sono le spese di istruzione da poter detrarre dalla dichiarazione dei redditi 2016 e quelle sostenute per la mensa scolastica dei figli sono detraibili tramite modello 730 e modello unico la detrazione è pari al 19% per un limite massimo di spesa pari a 400 euro pertanto 76 euro all'anno per ogni studente a prescindere dal livello di scuola frequentato se primaria o secondaria statale o privata per calcolare la detrazione si considerano tutte le rate della mensa pagate in data 2015 al di là della loro effettiva scadenza quindi se nel 2015 il contribuente ha effettuato anche pagamenti di rate scadute nel 2014 potrà comunque portarle in detrazione per i contribuenti che vorranno beneficiare della riduzione di tali spese si utilizzerà il codice 12 che identifica per l'appunto le spese relative alla mensa scolastica nel modello 730 2016 nei rigli da E8 a E12 e nel modello unico nei rigli da RP8 a RP14 la documentazione necessaria a dimostrare il pagamento è l'attestazione rilasciata dal comune relativa ai pagamenti del 2015 o in alternativa la copia delle ricevute di pagamento tramite conto corrente bonifico bancario postale relative al servizio mensa il modello per la richiesta di rilascio dell'attestazione è già disponibile sul sito web del comune di San Pietro Altanagro è stata davvero una puntata speciale quella di ieri sera ad Affari Tuoi che ha visto protagonista Cono Delia di Teggiano grandi applausi e tanta emozione per il tegianese all'apertura del suo pacco che conteneva 250 mila euro probabilmente la vincita più alta della stagione vediamo come è andata ieri sera grande serata per Cono Delia di Teggiano che protagonista del programma condotto da Flavio Insin Affari Tuoi si è giudicato l'importante vincita ad ingettoni d'oro di 253 mila euro una serata speciale che aveva avuto un inizio decisamente amaro visto che alla prima chiamata il tegianese autista di bus di autolinea di lunga percorrenza aveva eliminato da subito il pacco contenente 500 mila euro poi un percorso irto di ostacoli con la chiamata del pacco sgambetto che lo ha costretto a chiamare tutti i numeri pari eliminando diversi pacchi con cifre anche importanti proposte economiche non sempre ragionevoli da parte della dottoressa è ben due volte l'offerta del cambio che Cono Delia ha entrambe le volte accettato cambiando prima il suo pacco il numero 3 che solo alla fine della puntata si saprà contenente in 50 mila euro per un pacco il numero 11 che è stato poi nuovamente cambiato dal concorrente di Teggiano e che conteneva appena 250 euro alla seconda proposta di cambio Cono Delia decide quindi nuovamente di accettare e lascia il numero 11 con 250 euro per scegliere il numero 19 una scelta quella di mantenere fino alla fine il suo primo pacco il numero 3 e di aprire subito il numero 11 che lo porterà alla fine della partita ad avere sul tabellone 50 mila euro e 250 mila euro nel finale l'autista tegianese riesce anche a conquistare lo special e superando brillantemente la prova affidata gli battendo anche il record di tempo si aggiudica 3 mila euro arriva quindi nella parte finale un'importantissima offerta che ben pochi avrebbero avuto il coraggio di rifiutare di 120 mila euro il finale di una puntata di affari tuoi che Cono Delia di Teggiano ha regalato ai milioni di telespettatori inchiodati davanti ai teleschermi con una serie di insegnamenti importanti per la vita e che Flavio Insinna ha voluto rimarcare sottolineando l'insegnamento di Cono Delia e cioè che se si crede davvero in un sogno è necessario avere il coraggio di volerlo realizzare riuscendo a stare attenti a comprendere qual è il momento migliore per fermarsi Cono Delia non si è fermato e con calma serenità e coraggio ha vinto 250 mila euro più 3 mila euro dello speciale aggiudicandosi probabilmente la cifra più alta vinta in questa edizione di Affari Tuoi Sabato 30 aprile ci sarà l'ultima rappresentazione teatrale a sostegno della Vacanza del Sorriso saranno i teatristi casalbuonesi a portare in scena la commedia Medico di Famiglia presso il centro sociale Don Bosco di Polla Cala il sipario sulla terza edizione della rassegna itinerante denominata Teatro del Sorriso il grande lavoro di organizzazione e coordinamento da parte dello staff di Cilento Verde Blu Onlus unitamente alle associazioni teatrali del Vallo di Diano sta producendo i suoi frutti l'adesione è stata massiccia da parte di associazioni operanti e attive nel Vallo di Diano enti comunali e volontari hanno organizzato delle mini rassegne nei teatri di loro riferimento per ospitare le compagnie in tour da varie località del Ballo unite dallo scopo di sostenere la vacanza del Sorriso andando a raccogliere i fondi per rimborsare le spese di viaggio delle famiglie che beneficiano di questa meravigliosa iniziativa con questo contributo economico fa sapere Giuseppe Damiani presidente di Cilento Verde Blu potremo garantire a tutte le famiglie che ne facciano richiesta di poter beneficiare della vacanza del Sorriso pertanto continua Damiani i soggiorni vacanza settimanali che ogni anno proponiamo agli ospedali e alle onlus di pediatria oncoematologica comprenderanno la pensione completa le attività ricreative ed escursionistiche l'assistenza sociosanitaria il calore l'ospitalità della nostra comunità e da quest'anno anche il rimborso delle spese di viaggio grazie ai proventi raccolti durante le rappresentazioni teatrali della rassegna Teatro del Sorriso la serata finale dell'evento è prevista per sabato 30 aprile alle ore 21 presso il centro sociale Don Bosco di Polla dove il gruppo Teatristi Casalbuonesi porterà in scena la commedia Medico di Famiglia per la regia di Teresa Masullo e passiamo allo sport vittoria nel recupero di campionato per il Certosa di Padula che ottiene tre punti fondamentali per la salvezza il divario dalla zona play out è di 5 punti tre punti fondamentali in chiave e salvezza per il Certosa di Padula che ieri pomeriggio all'Aviano nel recupero del campionato di prima categoria Girone G ottiene la vittoria sul campo del Real con Tursi Terme contro la squadra ultima in classifica la compagine di Mister Spinelli va sotto di un gol al terzo minuto Bogdeanu direttamente da calcio di punizione realizza il vantaggio per i padroni di casa la reazione però non si fa attendere dopo aver rischiato il secondo gol alla mezz'ora un'ottima incornata di Reina trova il vantaggio per il Padula in parità si va all'intervallo nella ripresa la formazione granata con Cassino neontrato che mette lo zampino in entrambe le marcature che portano al definitivo 3 a 1 prima sul 2 a 1 quando effettua un assist e consegna sui piedi di Polito il gol del vantaggio poi all'89 serve agli annelli la palla del 3 a 1 tre punti come detto importanti che proiettano il Certoso di Padula quota 29 in classifica con un vantaggio di 5 lunghezze sulla nuova San Vito Sapri quinto ultimo in classifica in bagarre per evitare i play-out per il Real con Tursi Terme infine la retrocessione ormai è matematica ma si continuerà ad onorare il campionato come sempre fatto e con lo sport si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio di essere stati con noi vi auguro buon proseguimento di giornata grazie a tutti